Ecco, da simpatizzante Viola, come hai giudicato l'atteggiamento della società nei confronti della vicenda Salah? Ma io l'ho criticata per questo motivo, che già attorno a Pasqua avevo invitato la società Viola ad acquistare Salah, che sarebbe costato solo, tra virgolette, 16 milioni, mentre se con il prestito ancora di un anno di un milione, l'aumento da 16 a 18, il prossimo anno sarebbe costato 19 milioni. Questo perché? Perché la Fiorentina avrebbe avuto il coltello dalla parte del manico, molto semplicemente. O lo teneva, oppure avrebbe avuto la possibilità di cederlo all'Inter di turno a non meno di 25 milioni. Invece in questa maniera, secondo me, si è fatta beffare per una scarsa attenzione dei suoi dirigenti, così come è successo in passato con Montolivo e con Neto. Preoccupato per questa campagna acquisti bloccata della Fiorentina? Per il momento sì, anche perché non si capisce come la squadra possa affrontare tre competizioni con la stessa Rosa dell'anno scorso. Ci vuole sicuramente un rinforzo in difesa, qualcuno al centrocampo che sostituisca Pizzarro e poi capire che cosa può succedere in attacco. Se Gomez dovesse andare via, diciamo, attorno ai 12 milioni, potrebbe arrivare destro, che non è in cima ai miei desideri, ma che comunque può fare qualche cosa di buono. Ma qui soprattutto c'è da capire se i della Valle hanno voglia o meno ancora di investire e di credere della Fiorentina.